Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente nel secondo episodio della carriera allenatore su FC24 con il mio amato Milan Carriera che non vedevo l'ora di portarvi Abbiamo già fatto il primo episodio ovviamente andatevelo a vedere per non perdervi e per capire un pochettino tutte quelle che sono le novità Vi ringrazio per tutti i mi piace, ve ne chiedo 2000 per il terzo episodio se lo volete già stasera Altrimenti vi ricordo il programma dei prossimi giorni, usciranno i video sabato alle ore 12 e domenica alle ore 11 Quindi iscrivetevi a Tatara Campanellina anche per non perdervi e soprattutto per aiutarmi ragazzi ad arrivare finalmente ai 100.000 iscritti Non vi costa veramente niente, cliccate quel tasto e supportatemi, è gratis se vi tocca veramente un secondo ma a me cambia veramente tutto Tra l'altro come vedete oggi ho la maglia del Milan indosso e ringrazio Ufocalcio per avermela fornita Miglior sito per male, tutta da calcio a prezzi bassissimi, ci collaboro da più di 3 anni, sito super super affidabile Hanno fatto anche una promo in occasione appunto di questa carriera fino al 4 ottobre Tutte le info in descrizione ma insomma per ogni cifra spesa riceverete delle maglie in omaggio Dai 50 euro in su avrete una maglia in omaggio, codice IAS per il 10% di sconto e per usufruire della promo in descrizione Come dicevano lo scorso episodio abbiamo iniziato ufficialmente questa carriera Abbiamo visto un pochettino tutte le varie novità che ci vorrà un pochettino di tempo per abituarsi perché mi hanno abbastanza confuso Devo dire la verità, dopo vedremo anche i vari preparatori eccetera Vedendo la rosa come vi ho detto nello scorso episodio sono ancora più convinto Dobbiamo fare un centrale titolare, infatti ho visto tutti i vostri commenti, vi ringrazio per i consigli E soprattutto sul terzino sinistro di riserva che è fondamentale perché non siamo scoperti qua sul terzino sinistro di riserva Quindi sicuramente credo che sarà il primo colpo che andrà a fare Comunque il budget ve lo ricordo è alto, abbiamo praticamente 90 milioni Quindi comunque possiamo investire bene sul centrale E sinceramente io direi di non indugiare e di partire però non dal difensore centrale ma dal terzino Che come vedete l'ho individuato in Juan Miranda C'è stato anche qualcuno di voi che ha commentato, magari lo metto anche qua a schermo E mi piace per due motivi, uno è un giocatore che quest'estate è stato abbastanza vicino al Milan O comunque è stato seguito Ma soprattutto è un giocatore in scadenza di contratto Non solo overall ma dovrebbe essere sotto l'80 di overall Quindi comunque sarebbe un giocatore che verrebbe tranquillamente a fare la riserva di Teo Hernandez Crescere dietro di lui Noi abbiamo un giocatore a centrocampo che è fuori dal progetto del Milan Ossia Yassin Adli, vale 7 milioni quindi comunque meno potenzialmente di quello che vale Juan Miranda Però noi Adli per quanto può essere giovane e possa crescere non ce ne facciamo niente Quindi magari lì al Betis potrebbe addirittura trovare posto da titolare e crescere E io sarei contento per lui Sinceramente andrei anche a fare un'offerta da 10 milioni Tanto Yassin Adli l'avrei venduto sui 12 milioni Al massimo 12-13 milioni Vediamo 10 milioni più Adli Occhio voglio lo Simon Kear che sapete che è anche meglio Era la mia seconda opzione Kear preferivo magari venderlo E Adli ce lo vedevo bene al Betis Però così preferisco anche 8 milioni e mezzo vale Kear ma c'ha comunque 34 anni Magari riusciamo anche a offrire di meno Proviamo 3 milioni 3 milioni più Simon Kear ragazzi sarebbe perfetto Per la prima trattativa Per il primo acquisto Accettiamo E ragazzi non male non male assolutamente Perché ripeto Kear l'avrei venduto sui 9-10 milioni Quindi alla fine lo stiamo pagando molto meno di quello che mi aspettassi Paura che sia un po' più basso di overall rispetto a quello che mi aspetto Io mi aspetto un 78 minimo di overall Perché Miranda che in realtà è veramente un ottimo giocatore Accetta il ruolo turnover che va benissimo 4 anni di contratto vanno bene li accettiamo Niente clausola recessoria assolutamente Aveva una clausola da 35 milioni Meno male che ci chiede lui lo stipendio Perché qua avrei fatto un pochettino di fatica Rimuoviamo il bonus Avanziamo Comunque vedete che dal punto di vista anche delle trattative Proprio con le altre squadre con i giocatori Non hanno cambiato niente Neanche le scenette Anche le varie location Almeno per il momento sono identiche 40 mila va benissimo E quindi ragazzi Accettiamo E questa ragazzi È la prima trattativa riuscita di questo FC24 Mettete il mi piace mi raccomando Perché sarà una carriera lunga Ma soprattutto una carriera In cui ora vi dirò anche quali sono gli obiettivi Gli obiettivi della società per questa stagione Saranno provare a vincerlo Scudetto Con l'obiettivo minimo del quarto posto Per confermare la Champions League Altrimenti verremo esonerati In Champions League arrivare almeno ai quarti di finale Puntare alla Coppa Italia Ma non è importantissima Ma è importante puntare sull'algoritmo Per trovare giovani talenti e valorizzarli Bene ci siamo coperti adesso sul terzino sinistro 77 di overall Miranda Quindi più o meno quello che mi aspettavo Secondo me abbiamo fatto un affare Perché sì Simon Kier era un 81 di overall 80-81 di overall Però era 34enne Dopo questo acquisto direi di aspettare Di fare qualche cessione Abbiamo Caldara in uscita A titolo definitivo E poi Adli A questo punto lo manderei in prestito Poi magari lo valutiamo Ma poi se ci arriva un'offerta importante Lo possiamo anche vendere Pellegrino e Ciacatraore Li manderei via Per fare un po' di esperienza Ci sono arrivate tantissime tantissime offerte Ne vedo anche una per Rafaleo dal Newcastle Partiamo però con Caldara Vale un milione e tre Ci hanno offerto praticamente quello che possiamo chiedere Anderet e Azzet Alkmar Io sinceramente le accetterei entrambe Senza neanche andare a trattare Ottima offerta del Pisa In serie B per Ciacatraore Mi piace da morire E questa qua l'accetto Lo do per un anno Senza diritto di riscatto Offerta dalla Fiorentina Per Yasin Adli Però vi dico la verità Non so se lo voglio dare in Italia C'è il rischio che poi giochiamo contro la Fiorentina E ci purghi Perché lui c'ha la faccia di uno Che potrebbe purgarci No Rifiuto l'offerta della Fiorentina Pellegrino Dal Braga Il Braga tra l'altro Credo che faccia anche le competizioni europee Quindi potrebbe essere più allenante Forse per lui Un Braga Che comunque è una delle squadre più importanti in Portogallo Quindi dai Lo diamo al Braga Vedremo poi se accetterà lui E poi è arrivata una maxi offerta Per Rafa Leao Che possiamo chiedere dai 120 ai 166 milioni Lui in realtà c'ha la clausola recessore da 180 milioni Vedremo poi se aggiungerla o meno Io ovviamente da milanista vorrei che non esistesse Però ovviamente 180 milioni sono 180 milioni Ovviamente La vado a rifiutare un po' Non è anche tentennato La vado a rifiutare Arrivano altre offerte Vediamo un pochettino C'è arrivato anche il trofeo per campionato Al 15 luglio Quindi anche questa è una Tra virgolette novità Forse farei questo qua per allenarci meglio In vista della stagione Perché poi avremo la Champions League Che quest'anno sarà veramente tosta Abbiamo quel girone con Borussia Paris Saint Germain e Newcastle Che è veramente veramente duro Tante altre offerte Ragazzi mi sembra finora Che arrivino molte più offerte Rispetto all'anno scorso Vedete siamo al 15 luglio E sono già arrivate una caterva di offerte E questa cosa mi piace veramente tanto Sono arrivate offerte dallo Sporting E dal Getafe E io sinceramente ragazzi Le accetterei entrambe E lo mandiamo in prestito L'importante era non mandarlo in Italia Perché avevo paura veramente che ci purgasse Per ciao Offerte di scambio con Castrovilli Io ciao Bloccherei le offerte Perché ci puntiamo veramente tanto Pobega Ci è arrivato 14 milioni e mezzo Alla fine il Fenerbahce Non vuole più Krunic Ma vuole Pobega Forse è arrivata un'offerta per Krunic Era veramente super realistica Questo ovviamente però La vado a rifiutare perché Pobega Secondo me nel 4-3-3 È veramente utile Rafa Leao Offerta dall'Arsenal 32 milioni più Martinelli Però ragazzi Andiamo a rifiutare Se arriva un'altra offertona Per Leao Vado a bloccare le offerte Perché questa almeno Prima stagione ragazzi Rafa Non si sposta Arriva un'altra offerta E questa ragazzi È veramente pesante Hakimi per Teo Hernandez C'è Hakimi più soldi Per Teo Hernandez Per Adli C'è arrivata anche un'offerta Titolo definitivo E abbiamo ancora in sospeso Getafe e Sporting Attenzione perché ci hanno offerto 4 milioni e mezzo Più un giocatore che non vorrei Al Darmstadt sarebbe un pochettino sprecato Credo che non siano neanche In Bundesliga No sinceramente Rifiuterei ragazzi E accetterei I vari prestiti Vi dico la verità Tomori Lo vuole il Napoli Si è resa conto forse Che Nathan Non è un granché Ma blocchiamo le offerte Ora ragazzi direi che è il momento di andare sul centrale Mi sono segnato tre opzioni La prima che è quella che forse preferisco di più È Sima Khan Che era stato seguito dal Milan un paio di anni fa Poi alla fine arrivò Fikai Otomori Altrimenti L'alternative sarebbero Tapsoba Sempre dalla Bundesliga E anche lui è un gran gran bel centrale Da anni Stalba e Leverkusen Non so perché non l'abbia mai comprato nessuno Ma è un gran bel centrale L'alternativa Un pochettino più Diciamo Moneyball Più algoritmica Potrebbe essere Gertruida Che è un terzino destro Ma in realtà Ha delle caratteristiche Ottime da difensore centrale Gli andiamo a vedere tutte e tre Gertruida avevo il dubbio Se avesse il game face o meno Purtroppo non ce l'ha E questo è un peccato Perché sarebbe stato tanta roba Con il game face Tapsoba E Sima Khan invece ce l'hanno E Sima Khan mi piace anche perché ha quelle treccine Rosso e nere Che vogliono dire Comprami ass Comprami Partiamo quindi con Sima Khan E io Proverei Ad offrire Proviamo 35 milioni Veramente non so quanto possa valere Non so neanche l'overall Credo che sarà almeno 80 di overall Vogliono 50 milioni Mi sembrano leggermente tanti Possiamo provare sui 40 40 milioni comunque è un bel investimento Anche perché non li ha mai spesi il Milan Per un centrale Ma credo neanche per un giocatore Non so qual è il giocatore più costoso della storia del Milan Ma siamo più o meno su questa cifra Quindi comunque Stiamo facendo un investimento importante 42 milioni e 4 Vi dico la verità È inutile andare a risparmiare sul milioncino Sui 2 milioni Anche se il Milan in realtà tratta così Però ragazzi Almeno i tifosi qua nella carriera Facciamoli godere Accettiamo E ha un ingaggio molto basso Quindi anche in linea con quella che è la politica degli ingaggi del Milan 34 mila vuol dire che alla fine va a prendere 70 Andrebbe a prenderne anche 2 milioni di stipendio Quindi veramente poco Anzi pochissimo Forse adesso mi chiederà qualcosina di più Infatti 39 mila e 500 Vanno assolutamente bene Trattativa super lampo Super liscia Simacan voleva già il Milan con quelle trecine E quindi diamo il benvenuto anche a Simacan Secondo acquisto di questa carriera con il Milan Andiamo a vedere quanto è di overall Simacan Sono molto curioso È un 79 Ok ok Mi aspettavo un 79 Un 80 Comunque lui Calulu E ciao Sono tutti i giocatori che si alterneranno In realtà anche con Tomori Quindi comunque nessuno si deve preoccupare Calulu tra l'altro sarà anche il Jolly Come terzino destro Quindi potrà anche avere spazio come terzino destro In realtà vedendo le caratteristiche Anche Simacan può farlo Anche se diciamo che Calulu è molto più adatto Quindi credo che Calulu sarà il vice Calabria Con poi Florenzi che sarà un po' il Jolly Il giocatore che può giocare anche come mezzala Bene farei semplicemente il piano crescita Così vi faccio vedere anche che alla fine non è cambiato niente L'unica cosa con i preparatori come vedete Si accelerano i piani crescita Quindi invece che 42 settimane ci metterebbe 31 settimane Eccetera vedete qua 14 Invece ce ne vogliono 11 Andiamo quindi a comprare un pochettino di preparatori Allora ne prendiamo uno per l'attacco Oh lui niente male Tra l'altro Yassin si chiama come me Quindi lo andiamo ad acquistare E lo mettiamo in attacco Oppure a centrocampo che abbiamo bisogno Per il momento lo metterei a centrocampo Perché abbiamo uno da 4 stelle Quindi magari si potrebbe migliorare E a livello di attacco c'è Pietro Fontana Lo andiamo a prendere e lo mettiamo in attacco Anche se in realtà pure Malai c'ha 4 stelle E lì l'ideale ce ne vogliono un po' di più Quindi si magari facciamo così Così abbiamo 13 in attacco Visto che abbiamo Giroud magari si può migliorare l'attacco Ne prendiamo uno per il centrocampo E direi di prendere lui La fortuna di aver preso il Milan è che abbiamo tanti soldi Anche per sperimentare qua con i preparatori Per la difesa ne prenderei un altro Visto che adesso abbiamo preso anche nuovi centrali E quindi ci vuole che crescano più velocemente E poi per la porta abbiamo Maignan Quindi siamo abbastanza coperti E lo mettiamo qua Quindi adesso siamo lontani dall'ideale Forse in attacco siamo più vicini Ovviamente alla porta che ci voleva poco Però piano piano ne andremo ad aumentare Tra l'altro ne possiamo prendere soltanto altri Un altro per ruolo Tranne l'attacco in cui siamo già coperti Anzi no se ne possono prendere quattro O forse si possono prendere all'infinito Questa cosa devo capire Non è tanto chiara Però credo che si possano prendere di più C'è arrivata un'offerta dall'Inter per Ben Nasser Ma andate a cagare Neanche per idea Siamo ancora lontani dalla prima partita Abbiamo simulato già le prime due partite Una vittoria e un pareggio Io però vorrei subito giocare la prima partita Vorrei avvicinarmi alla prima partita Non so se riuscirò a portarvela già in questo episodio Ma io continuerò a registrare Quindi in caso la vedrete nel prossimo episodio Che mi raccomando Arriverà appena faremo 2000 mi piace Quindi lasciate il mi piace Mi raccomando Tra l'altro avevo mandato anche questo staff primavera E dovrebbe avermi trovato già i primi giocatori Quindi vediamo anche un po' i giovani dalla primavera Se è cambiato qualcosina Ovviamente qua nella carriera col Milan Andrò a prendere soltanto i top Come magari il Carmine Romeo Che non è male anche se ha 17 anni Però vediamo un pochettino Peccato che non ci siano i vari giovani Quelli reali Quindi magari nel Milan ci sarebbe stato Camarda Che sarebbe stato spettacolare da usare nella carriera Ma purtroppo non è presente su FIFA Ovviamente ragazzi Ci ha detto un'offerta per Krunic Vediamola un pochettino Anche se io non lo venderei Offerto dalla Roma No io non lo venderei Vi dico la verità Almeno la prima stagione Lo vorrei tenere Perché ha il vice Benasser E ripeto Non voglio stravolgere troppo la rosa Arriverei la partita contro il Bologna Offerta anche per Kalulu Ma ragazzi Da chi? Dal Lens Scambio Ci offre uno Sotoka No anzi Kalulu blocco proprio le offerte Dicevo Consigliatemi qua sotto Se c'è qualcosina Qualche ultimo acquisto Che andreste a fare Negli ultimi giorni di mercato Anche se secondo me Non è necessario Perché la squadra È veramente completa Ora avremo il Bologna ragazzi Io andrò subito a giocare la partita Ma questo video si ferma qua Mi raccomando ragazzi Arriviamo a 2000 mi piace Iscrivetevi A tutta la campanellina Detto ciò vi ringrazio Lasciate un bel mi piace Ufo calcio in descrizione Ci vediamo con il prossimo episodio Se arriviamo a 2000 mi piace Ve lo porto subito stasera Ciao a tutti ragazzi